ora è il momento buono per andare a trombare cinesi a Topascio con pochi soldi le trombi delle belle trombate secondo me è venuta fuori una bella malattia speriamo che muoiano dell'altri che il caso si allarghi così si tromba bene sono sicuro che sono sane ma chi è sto criminale qua è vero? ma sia uno che circola un messaggio che circola in Toscana però